Ben ritrovati a Ultima TG in attesa di ricollegarci in diretta con Palazzo degli Elefanti dove si sta tenendo il consiglio straordinario sul tema rifiuti un consiglio straordinario dove stanno ovviamente parlando sia maggioranza che opposizione in aula è presente in rappresentanza dell'amministrazione comunale l'assessore all'ecologia e ambiente del comune di Catania Fabio Cantarella che abbiamo sentito anche nel corso delle ultime news del pomeriggio primo firmatario della mozione che ha portato al consiglio comunale straordinario un consiglio comunale del Movimento 5 Stelle per noi in diretta il collega Luca Licata Siamo ancora qui a Palazzo degli Elefanti ancora in corso l'assemblea straordinaria sono state toccate diverse tematiche riguardo le problematiche dei rifiuti tra le tante quella che siamo ancora fermi quasi al 7% entro il 31 dicembre scatteranno delle penalità se non si raggiunge appunto la soglia prevista che sarebbe quella del 30% questo è quanto già stabilito e comunque già l'aveva preannunciato il Presidente della Regione e di fatto nel momento in cui non vengono raggiunte quelle soglie non solo prendiamo anche la penale dalla Regione ma dall'Europa quindi il comune è già alle casse vuote immaginiamoci di dover pagare pure le penali siamo indietro su tutta quella che è la raccolta vi lascio immaginare quali sono i problemi che dopo sorgeranno ai nostri microfoni ha appena parlato Graziano Bonaccorsi che è il primo firmatario di questa assemblea straordinaria si è parlato poco fa durante la seduta anche di riuscire a invastire un'azione di educazione nei confronti della cittadinanza nell'utilizzo della differenziata Sì, io sono d'accordo è chiaro che bisogna educare la cittadinanza però rendiamoci conto che in questo caso specifico bisogna mettere la cittadinanza in condizione di poter fare la raccolta differenziata se tu non conferisci i sacchetti, i kit i kit per le deiezioni degli animali i kit per la differenziata e tutti quegli altri strumenti che consentirebbero di fare la raccolta è chiaro che poi i cittadini pagano la tassa sono stressati non riescono ovviamente ad avere gli strumenti e si crea quello che si crea fuori confusione, spazzatura dappertutto e ovviamente vista la quantità e secondo me anche visto questo servizio che sta andando un po' male è poco, credetemi, un eufemismo è chiaro che poi ci ritroviamo in queste condizioni a dover fare delle sedute straordinarie per affrontare il tema appunto è stato puntualizzato anche questo in aula che non tutti, ovvero sono ancora pochi i cittadini catanesi a cui a casa sono stati forniti i diversi cestini per la differenziata qual è la situazione? Lei è un consigliere? Quasi nessuno, dico la verità io la scorsa settimana mi sono recato a casa di un amico in zona barriera e lì mi diceva che è andato alla circoscrizione per chiedere il kit e gli hanno detto che il kit non ce l'avevano, non era stato fornito ma anche gli stessi centri comunali di raccolta non sono attivi lì deve essere presente uno dei dipendenti dell'azienda che sta svolgendo questo servizio di fatto non c'è nessuno o meglio, non sono praticamente monitorati 12 ore come già prescritto quindi quei centri in questo momento sono attivi al 100% come stanno lavorando? credetemi, sono tante le problematiche e tanti gli aspetti che cozzano con quella che è la stessa gara Direttore, io chiudo semplicemente con un'ultima battuta che chiedo al consigliere Bonaccorsi voi del Movimento 5 Stelle state avanzando qualche proposta è possibile in aula se ne è discusso di queste eventuali penalità che possono ricadere sui cittadini? qualche idea? guardi, ripeto, 130 giorni di gara già è passato più di un mese da quando ha preso servizio l'azienda qui più che una soluzione concreta al problema ci vorrebbe un miracolo è davvero difficile, è secondo me una mission impossible è ancora in corso l'aula, per il momento è tutto, grazie grazie a Luca Licata, grazie davvero per questi preziosi collegamenti nel corso di tutto il pomeriggio all'interno di Palazzo degli Elefanti ovviamente abbiamo risentito il primo firmatario che è della richiesta del Consiglio straordinario sull'emergenza rifiuti del comune di Catania torniamo a occuparci di cronaca la squadra mobile ha eseguito il fermo di Leo Sutera storico boss agrigentino considerato il capo della mafia in provincia oltre che fedelissimo di Matteo Messina Denaro con cui ai rapporti trentennali c'era il pericolo di fuga è stato fermato perché c'era la concreta possibilità che potesse rendersi irreperibile anche se ancora non si conoscono i motivi che stanno alla base del provvedimento ma qualcosa di grave ed urgente e non reso noto deve pure esserci stato dato che Leo Sutera, seppur gravato dalla misura della sorveglianza speciale era un uomo libero avendo finito di scontare due anni fa la sua ennesima pena per associazione mafiosa e non scappava ad alcun provvedimento restrittivo di solito quando si interviene con tale celerità e premura mentre sono in corso delicate indagini si fa ciò quasi esclusivamente per impedire non soltanto la fuga ma la commissione di gravissimi reati per questo motivo la squadra mobile di Palermo insieme a quella di Agrigento hanno eseguito il fermo a Sambuca di Sicilia poco prima dell'alba di Leo Sutera alias Upruvissuri considerato il vertice assoluto di Cosa Nostra Agrigentina oggi più che mai dopo gli arresti avvenuto lo scorso gennaio nell'ambito dell'operazione Montagna storicamente vicino alla famiglia Messina Denaro di Castelvetrano Leo Sutera ha guidato tra alti e bassi la provincia mafiosa Agrigentina figlia di Leonardo Sutera ucciso nel marzo 1985 nel suo podere tra Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice eredito dal padre la vecchia amicizia che quest'ultimo aveva con il padre di Matteo Messina Denaro diventando a sua volta amico e sodale del super latitante numerosi pentiti hanno affermato che Matteo Messina Denaro teneva nel cuore Leo Sutera diventando la sua interfaccia criminale non soltanto in territorio agrigentino con l'ascesa di Giuseppe Falsone a capo provincia il ruolo di Sutera venne messo in discussione anche se il suo spessore criminale fu sempre riconosciuto da tutti significativa in tal senso la richiesta di intervento di Matteo Messina Denaro per risolvere una controversia assorta con il duo Falsone Capizzi il suo nuovo arresto nell'operazione Nuova Cupola nel 2012 fece addirittura sorgere un contrasto tra procure con l'aggiunto Teresa Principato che criticò duramente il provvedimento che avrebbe potuto bruciare le indagini che portavano a Matteo Messina Denaro nel 2016 furono sequestrati 400 mila euro mentre dallo scorso anno è un sorvegliato speciale perché socialmente pericoloso Sutera oggi risulta indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso ci spostiamo a Messina vasta operazione degli agenti del ROS che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone per associazione di stampo mafioso un gruppo selezionato che agiva a Messina per conto della famiglia Santa Paola i carabinieri del ROS della città dello Stretto hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone gravemente indiziate a vario titolo di associazione di tipo mafioso traffico di influenza illecite estorsione turbata libertà degli incanti tutti i reati aggravati dal metodo mafioso perché commessi per agevolare l'attività del gruppo Romeo Santa Paola l'operazione che prende il nome di Beta 2 è stata condotta sull'asse Messina-Catania-Palermo l'indagine era stata avviata nel 2017 rappresenta lo sviluppo dell'operazione Beta eseguita nel luglio dello stesso anno un'inchiesta che aveva documentato l'operatività Messina di una cellula di Cosa Nostra Catanese diretta emanazione della più nota famiglia mafiosa di Santa Paola un gruppo che dettava legge sul territorio risultando sovraordinato rispetto ai clan che tradizionalmente operano nei quartieri della città l'attività investigativa basata sugli accertamenti legati alle recenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia Biaggio Grasso ha confermato l'immagine di un'entità criminale capace di proiettare i propri interessi in diversi settori dell'imprenditoria una banda pesantemente infiltrata e ben finanziata grazie anche alla particolare capacità di interlocuzione con professionisti e ambienti istituzionali in un percorso trasversale in cui non si esitava a fare ricorso alla violenza specie nei rapporti con i clan di quartiere parallelamente è stata data esecuzione al sequestro preventivo della Betta SRL società operante nel settore dei giochi e delle scommesse con sede a Catania il gruppo criminale aveva la capacità di incidere anche sull'espressione del voto in alcune zone di Messina un clan che avrebbe concentrato i propri interessi nel settore dei giochi e delle scommesse potendo contare anche su una rilevante infiltrazione nel settore della distribuzione di farmaci un settore che ha visto confermati i legami tra il gruppo Romeo e il clan di Santa Paola e che avrebbe preso forma nel corso di una cena tenutasi a Messina nel 2014 a cui avrebbero partecipato i vertici della società interessata ed esponenti del suo delizio tra cui Vincenzo Romeo che nell'occasione sarebbe stato presentato come un imprenditore in vari settori e parente diretto di Nitto Santa Paola con interessi economici a Messina, Catania e in buona parte della Sicilia orientale Scoperta dei carabinieri di Santa Croce e Camerina la tratta di una diciottenne romena adescata sul web e condotta in Spagna per essere avviata la prostituzione Un'amicizia virtuale tra una diciottenne romena e un connazionale nata su Facebook e presto trasformatasi in qualcosa di più sino al punto da diventare un incubo caratterizzato da un futuro nella prostituzione la giovane donna di nazionalità romena ma cresciuta a Ragusa conosce sul popolare social network un uomo che vive in Spagna e che le propone di raggiungerla a Barcellona conquistandola con la prospettiva di numerose possibilità di lavoro e di una vita felice da vivere insieme la ragazza dopo un'infanzia difficile e una recente delusione sentimentale resta ammaliata dalle sue promesse e in pochi giorni lascia il lavoro e la casa dove vive in affitto prima meta del suo viaggio è Milano dove il potenziale compagno della sua vita la andrà a prelevare insieme passano la frontiera nonostante i documenti non siano validi per l'espadrio e in Spagna il sogno si infrange il loro viaggio infatti si interrompe in una casa di Girona dove l'uomo la introduce chiudendo a chiave la porta alle sue spalle la vita che la attende è quella della prostituta in quell'appartamento dove vivono sua moglie e un'altra donna già avviate al meretricio la storia si tramuta in un inferno la ragazza crede di avere in grevo un bambino dalla precedente relazione e lo comunica all'uomo sperando di essere graziata ma l'individuo non ha pietà e abusa sessualmente di lei facendole anche assumere cocaina sotto la minaccia di morte la ragazza però ha portato con sé un secondo cellulare e il 15 ottobre contatta tramite whatsapp un suo amico un ragazzo albanese che vive a Santa Croce Camerina sarà la sua salvezza l'amico informa subito i carabinieri che contattano la ragazza raccolgono tutte le informazioni utili compreso due foto che lei scatta dalla finestra dell'abitazione insieme all'esatta posizione sarà l'elemento più importante acquisito dagli investigatori di Santa Croce Camerina che insieme alla compagnia di Ragusa attivano il servizio di cooperazione internazionale di polizia inviando un'immediata richiesta all'Interpol spagnola il 16 ottobre la polizia di Girona il reparto Mossos de Squadra fa irruzione nella casa e arresta il suo guzzino i capi di imputazione sono tanti e gravi tratta di esseri umani induzione alla prostituzione violenza sessuale reati contro la salute pubblica la giovane romena è rientrata a Ragusa il 22 ottobre scorso e pian piano sta riprendendo in mano la sua vita e torniamo a occuparci delle lezioni dell'ordine dei medici di Catania ordine dei medici commissariato abbiamo sentito un candidato la settimana scorsa il professor Diego Piazza adesso è stata la volta dell'altro candidato il professor Gennone l'ordine dei medici vi ricordo il rinnovo si terrà il 31 ottobre l'1, 2, 3 novembre all'hotel Nettuno di Catania sentiamoli per costituzione dovremmo difendere e organizzare l'attività medica questa è la mission dell'ordine dei medici se uno la cerca su Wikipedia c'è un righe e mezzo dove le due parole chiave sono difendere e ristrutturare difendere e in qualche modo regolamentare l'attività medica quindi questa è sicuramente noi dobbiamo stare a questa mission e poi siamo fortunati perché abbiamo le linee guida quindi dobbiamo seguire le linee guida le nostre linee guida sono un codice deontologico sicuramente ben strutturato e a cui ci dobbiamo attenere tutti quindi queste sono cose dichiarazioni di principio che nessuno può obiettare e poi faremo tutte quelle piccole e grandi cose che servono per realizzare questo obiettivo della mission credo appunto nella sfida di volere creare un ordine un bell'ordine dei medici quello che mi è piaciuto molto di questa lista è proprio la presenza al suo interno di medici del territorio medici di medicina generale categorie che io rappresento insieme a medici ospedalieri questo credo sia un bel punto di partenza per cercare di andare a eliminare quella conflittualità presente tra queste due figure e credo proprio che la sinergia tra queste due figure possa essere a vantaggio di quello che è a vantaggio naturalmente del paziente io credo che si possono trovare dei punti d'incontro creare appunto una sinergia andando a superare questo momento che è stato vissuto tra queste figure cercando di creare qualcosa di bello e di utile che può essere visto proprio nella figura istituzionale dell'ordine perché credo che i medici di medicina generale i medici del territorio così come i medici ospedalieri universitari possono trovare un punto di incontro all'interno dell'ordine proprio per andare a discutere di quelle che sono le problematiche legate al cittadino dal primo novembre il servizio per gli asili nido potrebbe essere sospeso lo scrivono in una nota i lavoratori del consorzio il glicine che cura i servizi ausiliari negli asili nido comunali che attendono le loro spettanze la sospensione dal servizio è dietro l'angolo e l'amministrazione comunale corre ai ripari al centro della questione le mancate mensilità al consorzio il glicine che cura i servizi ausiliari negli asili nido comunali le circa 60 lavoratrici attendono ancora delle spettanze dalla passata amministrazione all'inizio dell'anno gli asili nido rischiavano l'apertura per la situazione di difficoltà dell'amministrazione comunale che però era riuscita a ovviare al problema grazie anche alla disponibilità proprio del consorzio che adesso protesta per i ritardi nei pagamenti da qui un incontro tra l'assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo e i lavoratori al quale però si sono presentati solo i sindacati dal 3 settembre quando è appunto iniziato i servizi abbiamo pagato tre mesi tuttavia ci sorprende che la cooperativa il consorzio comunichi al comune venerdì è arrivata questa comunicazione e comunica al sindaco e all'assessore ai servizi sociali la sospensione del servizio a far data dal 1 novembre adducendo a pretesto per questa comunicazione di sospensione le difficili condizioni in cui verse il comune che come dire non renderebbero credibile ogni nostro impegno nei loro confronti e anche lo stato di agitazione legittimo delle operatrici delle dipendenti che sono appunto le ausiliari del servizio asili nido dal 1 novembre dunque i lavoratori dovrebbero bloccare il servizio una decisione che si ripercuoterebbe non solo sui bambini ma creerebbe enormi disagi anche alle famiglie l'assessore annuncia inoltre l'arrivo di fondi proprio per gli asili nido questo comune parteciperà il 14 novembre perché era data di scadenza ad un bando della regione che prevede un contributo straordinario proprio per il servizio asili nido di 250.000 euro per i comuni che si trovano in condizione di predissesto dissesto o sottoposto a piano di rientro e il comune di Catania quindi ci rientra stiamo preparando tutte le procedure per poter partecipare a questo viso e siamo a buon punto con gli uffici e poi c'è anche un dato importante c'è il fondo di riparto che proviene dalla buona scuola dal decreto legislativo 65 2017 che assegna a Catania qualcosa come 700.000 euro anche poco di più di 700.000 euro di cui il 30% è riservato alla spesa corrente e quindi più di 200.000 euro sarebbero appunto riservati agli asili nido e quindi a servizio ausiliario di asili nido e l'altra parte invece viene riconosciuto come contributo alle famiglie un contributo che però non è cumulabile con il bonus asilo nido infine Lombardo auspica il dialogo per evitare la sospensione dalle attività noi cercheremo il dialogo sempre e comunque perché mettiamo al primo posto le famiglie e i livelli occupazionali e il servizio un impegno che questa amministrazione ha voluto mettere in campo siamo di fronte a una situazione molto pericolosa così il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco relativamente al rischio di sesso che incombe sul comune di Catania purtroppo questa è una situazione molto delicata che nei prossimi giorni con lo mancato pagamento degli stipendi e con la mancanza dei servizi più importanti che una città come Catania deve avere può effettivamente essere una bomba sociale questo è molto importante che il governo nazionale capisca effettivamente l'emergenza perché i soldi giovavano ieri non oggi sono migliaia i dipendenti che effettivamente girano intorno a quella che è la macchina comunale e anche migliaia l'indotto delle imprese che forniscono servizi al comune significa mettere in ginocchio da un lato tutti i dipendenti comunali dall'altro lato tutte le aziende e tutti i lavoratori di quelle aziende che forniscono primariamente servizi al comune che non percepiscono giustamente gli stipendi perché gli imprenditori non possono fare da cassa sempre non avendo effettivamente i pagamenti delle fatture e di tutto quello che effettivamente hanno fuori nei confronti del comune indubbiamente la situazione è molto molto pericolosa per tanti motivi però anche questo il dissesto va un attimino visto in quelle che sono le problematiche e il mancato trasferimento da parte dello Stato della regione alle casse comunali e purtroppo è anche la poca attenzione nella gestione delle partecipate di cui lei parlava giustamente poc'anzi perché lì infatti Confindustria si è messa a disposizione per quello che può essere il contributo che può dare però anche lì ci vuole un attimino più di attenzione nella gestione dei servizi e delle aziende che si occupano dei servizi per ridurre al massimo gli sprechi e per essere realmente sul mercato perché le aziende devono stare sul mercato Un chiosco è una famiglia bloccati per 4 anni dalla burocrazia la storia arriva da Catania come protagonisti una coppia che ha visto sfumare il sogno di una vita per esposti anonimi e misteriose pressioni ieri nel servizio è andato in onda le Iene compare il nome di Franz Cannizio che noi abbiamo sentito al telefono e ha reputato la vicenda una storia assurda montata ad arte loro sono Rosario e Chetti una coppia catanese intervistata dalla Iena Silvio Schembre in un servizio è andato in onda ieri per la nota trasmissione di Italia 1 la coppia 4 anni fa ha deciso di investire tutti i propri risparmi per aprire un chiosco ma si trova da subito a combattere contro ostacoli burocratici incomprensibili sposati con tre figli non hanno mai potuto realizzare il sogno della loro vita aprire questa attività ho investito i miei risparmi e quelli di mia moglie per metterlo in queste condizioni attuali che tu vedi dopo che aveva autorizzato per 16 anni revoca la concessione di suolo pubblico a seguito di un esposto alla procura della Repubblica il chiosco viene aperto solo per pochi giorni perché subito arriva una lettera firmata da una persona inesistente che segnala delle irregolarità al comune perché il chiosco è costruito vicino l'argine di un fiume osservavano praticamente un reggio decreto del 1904 che dice che divieto assoluto di costruzione lungo gli argini abbiamo fatto una perizia giurata dichiarava il tecnico che la struttura era appoggiata semplicemente al suolo senza alcun tipo di ancoraggio quindi mi rilasciano l'autorizzazione abbiamo fatto l'apertura il 16 di aprile il 17 arriva un altro esposto a Rosario Echetti vengono rilasciate le autorizzazioni e il chiosco viene riaperto ma solo per 24 ore l'ennesimo esposto anonimo che segnala che la struttura è costruita in cemento da lì una serie infinita di controlli segreteria generale del comune di Catania il capo del gabinetto lo sviluppo attività produttive l'agenzia del demani direzione regionale Sicilia l'ufficio del genio civile l'arta l'aspetre igiene pubblica la direzione urbanistica il corpo di polizia municipale la direzione protezione civile e pubblica in comunità tra esposti e pressioni sullo sfondo della vicenda compare il nome di Carnizzo Franz Carnizzo ex assessore alle attività produttive del comune di Catania un nome che viene citato da due dipendenti comunali Rosario e Chetti decidono di andare al comune di Catania tocco qua la situazione delicata ma l'esposto di cui è io non ne l'ho avuto niente ma il sostegno Antonio non esiste noi stiamo andando in procura perché io devo dire anche di quella persona che faceva come si chiama non so neanche perché è venuto e che interesse a Carnizzo ma chi è fatto? Carnizzo ha menzionato una persona tale Carnizzo ci siamo guardati che persona che nemmeno sapeva che esistesse viene una persona e noi gli diciamo ma perché me lo sta chiedendo non mi merite niente per iscritto se ne va basta Carnizzo non è che fa pressioni direttamente a noi e chi le fa? ne va da il prefetto e il prefetto ma dice che veniva a casa? è venuto ma che lo chitiamo fuori voi? vediamo l'ho messo nella lista nera chitato fuori ma lo scopo gliel'ha detto lei gliel'ha chiesto il motivo nell'interesse generale risponde voi se dite che avete tutti addosso ma anche noi abbiamo tutti addosso vi assicuro io dalla A alla Z compresso IUP sono nel W in questa autorizzazione me lo conferma questo? io te lo confermo ma allora che fare? io non lo so ma non lo so contattato dalla nostra emittente l'assessore Carnizzo ha risposto è una cosa scandalosa ne parlerò al momento opportuno è un fatto di una gravità assoluta montata d'arte non conosco queste persone rimango però essere fatto dalle dichiarazioni dei dirigenti in ogni caso ho già avviato le azioni legali questa mattina una delegazione dei studenti dell'Ateneo di Catania ha protestato davanti la sede dell'ente regionale per il diritto allo studio universitario contro le modalità di assegnazione dei posti letto che ogni anno l'ente riserva agli iscritti rivedere le modalità di assegnazione dei posti letto è quanto chiedono gli studenti dell'Università di Catania che questa mattina hanno protestato davanti la sede dell'Erso ente regionale per il diritto allo studio secondo gli studenti anche la seconda graduatoria pubblicata dopo che la prima era stata annullata per delle incongruenze presenterebbe delle irregolarità e i motivi di questa protesta sono stati le irregolarità che abbiamo rilevato dalla graduatoria uscita peraltro già per la seconda volta perché la prima era errata ma anche nella seconda abbiamo riscontrato delle incongruenze tra quelli che sono i dati degli studenti che hanno messo nella domanda che hanno dato nella domanda e i dati invece quelli dell'Università di Catania e nel particolare ci riferiamo a crediti esorbitanti rispetto all'anno di riferimento e inoltre abbiamo anche trovato delle irregolarità in dettaglio studenti che si dichiarano essere in sede ma che risultano essere assegnatari quando si sa che le residenze dell'Ersu sono appunto fornite da questo ente per gli studenti fuori sede inaccettabile aggiungono gli studenti una discrepanza così netta tra richiedenti e assegnatari quello di cui ci siamo accorti è l'irrisorio numero di posti letto che mette a disposizione l'Ersu per gli studenti i posti letto in totale messi a disposizione sono 698 per più di 2000 studenti che chiedono un posto letto quindi gli altri 1500 studenti rimangono automaticamente esclusi da questo che dovrebbe essere il nostro diritto l'incontro con il direttore si è composto di due momenti un primo momento in cui il direttore era molto scettico sulle incongruenze che noi facevamo notare diceva che la graduatoria era già stata corretta una volta e che quindi non potevano esserci ulteriori irregolarità in realtà dati alla mano e gradatori alla mano gli abbiamo fatto notare quelle che sono le incongruenze che i miei colleghi hanno già esposto e di conseguenza abbiamo redatto un secondo documento oltre a quello che avevamo già presentato facendo notare tutte queste irregolarità tutto pronto a Palermo per la seconda edizione della sfilata dei Santi l'iniziativa promossa dall'associazione Regina Colerum è in programma per la sera del 31 ottobre nasce per offrire alla città un'alternativa alla festa di Halloween e per difendere la festa originaria della cultura siciliana è una sfilata un corteo praticamente ci saranno personaggi si spera siccome andrà come lo scorso anno un centinaio tra giovani o meno giovani uomini e donne di tutte le epoche e con costumi d'epoca proprio secondo dei Santi che si vogliono un po' evidenziare e sarà solo una sfilata con dei canti a carattere religioso e la sola presenza di queste figure di questi modelli scuote l'anno scorso veramente molta gente si è commossa la nostra vorrebbe essere un'operazione non soltanto religiosa ma anche culturale non perché abbia qualcosa da ridire nei confronti del mondo anglosassone per carità io penso che noi come cristiani abbiamo le nostre tradizioni abbiamo come dire le nostre idee i nostri valori che non gradiamo che vengono disturbate da se manifestazioni si vogliono fare si facciano in altri momenti si facciano non contro ma semmai in forma collaterale è stato segnato la memoria del reporter Daphne Caruana Galizia uccisa a Malta per le sue inchieste il premio europeo di giornalismo investigativo e giudiziario la cerimonia di consegne integralmente ripresa da Ultima TV del gruppo russo Morosoli sarà trasmessa lunedì prossimo alle ore 21.30 si è svolta a Palazzo dei Congressi ieri a Taormina un riconoscimento speciale svolto per il ruolo da Ultima TV nel panorama dell'informazione è stato consegnato al nostro editore Francesco Russo Morosoli vediamo è stato assegnato la reporter Daphne Caruana Galizia uccisa a Malta per le sue inchieste è ritirato dal marito Peter il premio europeo di giornalismo investigativo e giudiziario consegnato ieri alla Palacongressi di Taormina consegna il premio il direttore della notizia Gaetano Pedullà è un vero piacere consegnare questo premio all'esempio di Daphne sono onorato di darglielo e complimenti e grazie con Mario Gerrusso con gli altri componenti della giuria abbiamo quindi con grande entusiasmo accolto ancora una volta l'invito di Massimo Scuderi perché il problema del giornalismo di inchiesta il giornalismo giudiziario investigativo è un problema che in questo momento deve avere grandissima attenzione a livello internazionale europeo e nazionale anche in Italia una cerimonia sobria condotta da Costanza Calabrese e che prende le mosse dal lavoro svolto dalla giuria presiduta dal direttore della notizia Gaetano Pedullà è formata dal sostituto procuratore della DDA di Napoli Catello Maresca dal senatore Mario Michele Giarusso componente della commissione parlamentare sulle mafie dai giornalisti Paolo Borrometti e Mario Primo Cavaleri e da Massimo Scuderi presidente del riconoscimento e autore e conduttore della trasmissione d'inchiesta l'Indiscreto trasmessa da Ultima TV del gruppo russo Morosoli invito a raggiungermi presidente del premio per parlarci proprio di questo format televisivo ideato e realizzato da Massimo Scuderi l'Indiscreto è un mix tra le iene e un mix tra striscia la notizia non si sostituisce assolutamente alla legge noi diciamo anzi assolutamente di denunciare perché la denuncia perché la querela per noi è il copione Massimo è una persona molto seria precisa che si documenta prima di fare qualunque servizio e tante volte lo sottopone anche al mio giudizio fino ad ora abbiamo avuto tutti i processi che sono rivolti contro di noi e abbiamo avuto anche qualche processo per calunnia che abbiamo presentato nei confronti di altri presente alla prestigiosa serata Francesco Russo Morosoli imprenditore ed editore a capo dell'omonimo gruppo ha ritirato il riconoscimento conferito dalla giuria per aver trasmesso su Ultima TV programmi giornalistici di inchiesta come l'indiscreto all'edottore Russo Morosoli già lo scorso 25 novembre a Zafferane Etnea era stato conferito un importante riconoscimento nell'ambito del premio letterario Tito Mascali che vanta tra l'altro il supporto della sostampa e dei club service in quella circostanza il gruppo Russo Morosoli e Ultima TV avevano ricevuto il premio per la produzione del miglior TG in Sicilia e per l'impegno profuso dal gruppo nel settore dell'editoria televisiva altro importante riconoscimento come miglior editore dell'anno nell'ambito della trentesima edizione del premio nazionale itinerante d'onore mesmitizzare in allegria non solo artisti in serata d'onore svolto in primavera a fiume freddo di Sicilia premiati la dedizione con cui la redazione di Ultima TV e la società editrice si impegnano a portare ogni giorno l'informazione nelle case dei siciliani ieri a Taormina l'ennesimo riconoscimento all'attività svolta per garantire un'informazione ampia e caratterizzata dalla pluralità delle voci qual è la responsabilità per un editore televisivo di mandare in onda programmi di inchiesta così insomma agguerriti poi Massimo lo racconta ridendo ma insomma poi sono cose che scomodano assai Ultima TV malgrado sia una emittente giovane perché non ha neanche due anni di vita è già la prima all news seppur ibrida come tante altre anche più blasonate volevo dare quel taglio quindi mi piace molto la giudiziaria mi piace il giornalismo d'inchiesta mi piace rischiare massima fiducia ovviamente a Massimo Scuderi che è bravissimo allora questa avventura ha quasi due anni quali sono diciamo i primi bilanci sono abbastanza soddisfatto anche se ancora c'è molto da migliorare è molto da fare è un percorso che stiamo facendo dobbiamo sicuramente migliorare il rullo dell'all news cerchiamo di fare del nostro meglio dobbiamo crescere sicuramente tra i premiati di questa edizione figurano anche Barbara Lezzi ministro per i Sud e Virginia Raggi sindaco di Roma entrambe hanno fatto pervenire un videomessaggio per il ministro della giustizia Bonafede ha ritirato il riconoscimento l'onorevole Piero Aiello vicepresidente della commissione giustizia premi anche all'imprenditore Ciro Salzano all'associazione a mano disarmata e all'europarlamentare Ignazio Corrao relatore della recente legge sul riciclaggio quello che noi stiamo cercando di fare da quando siamo entrati al Parlamento Europeo è avere una normativa organica in tema di lotta la criminalità organizzata che in Italia ad esempio abbiamo costruito è stata costruita negli anni e con il sacrificio di tante persone in versione integrale la cerimonia di consegna del premio sarà trasmessa su Ultima TV lunedì prossimo 5 novembre alle 21.30 adesso noi ci fermiamo per la pubblicità subito dopo lo sport Grazie a tutti Grazie a tutti. Il più alto d'Europa, patrimonio dell'UNESCO, la Funivia dell'Etna. Da oltre 50 anni, con una moderna Funivia e con confortevoli fuoristrada, ti porterà fino ai 3.000 metri di quota. Funivia dell'Etna, come stare seduti sul divano di casa. E se sei un tour operator, contattaci. Ed eccoci allo sport. Domani la sentenza del Consiglio federale, che deciderà forse definitivamente sul format della Serie B. Il nostro Giovanni D'Antoni ha ascoltato in esclusiva l'amministratore delegato del Catania, Pietro Lomonaco. Direttore Lomonaco, questo capitolo ripiescaggi non si è mai chiuso di fatto, ma cosa potrebbe nascere dal Consiglio di Martedì? Che sviluppi possono esserci e qual è la linea del Calcio Catani? La linea del Calcio Catani è risaputa. Quale deve essere la linea? Dopo due mesi di battaglia che stiamo facendo, non penso che ci si possa fermare in ultimo. Certamente c'è da dire che chi ha ideato questo giro contorto ha puntato proprio sulla dilazione dei tempi. Provate voi a immaginare come si possa mai fare a recuperare dieci partite. perché domani c'è un turno infrasettimanale in Serie B, quindi diventa veramente una cosa ridicola. Si falsano praticamente i campionati, campionati che già sono falsati, perché sia quello di C che quello di B sono dei campionati falsati. Però noi abbiamo il dovere di provare fino in fondo, proseguire sulla nostra strada, che possa prevedere il rispetto, far sì che si possano rispettare quelle che sono le regole. Regole bypassate, regole al di là delle chiacchiere che sento negli ultimi tempi, sono state disattese e non sono state salvaguardate da nessuno. Di conseguenza, io quello che mi auguro è che alla fine si possa mettere la parola fina a tutto questo con il ripristino delle regole. Direttore, le posso chiedere, dato che si parla anche di una linea di coerenza della società, se si aspetta che il nuovo corso Gravina possa mantenere quella linea di coerenza anche per la salvaguardia dei campionati. Parlo ad esempio della doppia promozione per Girone di Serie C, magari come soluzione salvagente per questa stagione che è già di per sé falsata. Io penso che domani ci sarà un Consiglio federale. Anche per la riforma dei campionati, dei format dei campionati, è il Consiglio federale che decide le riforme. Riforme che possono essere fatte nell'arco temporale dei due anni e non certamente pronti via il primo che si alza può inventarsi una riforma. Quindi aspettiamo il Consiglio federale di domani, vediamo un attimino quali sono le risultanze di questo Consiglio e poi vedremo. Torna al lavoro a Torre del Grifo di Catania e di Andrea Sottile, in attesa di notizie fuori dal campo. I Rosso-Azzurri non si risparmiano e lavorano con grande intensità. Giovanni D'Antoni. Primo allenamento settimanale per il Catania e di Andrea Sottile al capo 4 di Torre del Grifo. Sotto una leggera pioggerellina si sono allenati i Rosso-Azzurri, in attesa di capire quale sarà il futuro della squadra etnea, quale avversario e quale categoria. Il Catania torna al lavoro. Lo fa con la concentrazione e l'attitudine auspicata da mister Andrea Sottile che non bada le vicende fuori dal campo e pretende l'atteggiamento di sempre. Gli etnei incarnano lo spirito dell'allenatore e hanno svolto una seduta basata principalmente sul lavoro palla a terra, scatti e marcatura. Tattica è la solita cura del dettaglio. Il pacchetto difensivo, imprescindibile per gli schemi del tecnico, risulta compatto e atleticamente in forma. Dall'attacco segnali positivi da chi ha avuto maggior minutaggio a chi ha fin qui visto meno il campo. Buone notizie arrivano dall'infermeria, con Giuseppe Rizzo in netta ripresa nonostante il tutore al gomito. In gruppo figura anche Andrea Esposito, mentre per Max Barisic un lavoro personalizzato in palestra. In attesa di capire quale sarà il futuro di biaggianti, lodi e compagni, in campo non si molla un centimetro. Una linea precisa e forte, condivisa da giocatori, staff e società. Da Torre del Grifo Village, per Ultima Sport, Giovanni D'Antoni. Serie C perde il Trapani che resta in vetta, ma con due gare in più della Juve Stabia. Vittorie importanti per Sicura Leonzio e in chiave salvezza per il Siracusa. Daniele Di Frangia. Giornata a tinte chiaroscure, la nona per le squadre siciliane di Serie C. Due vittorie e una sconfitta per le compagini isolane, impegnate nei loro obiettivi di classifica. Resta il comando, ma trova la seconda battuta d'arresto il Trapani, che cede di misura sul campo della Cavese. Evacuo all'ottavo e Tulli al diciottesimo spaventano l'ex portiere dell'Akragas Bono. I campani si affacciano dalle parti di Vili con Sciamanna. Bravo a farsi trovare meglio, arrivano a concludere Cavese, che colpisce ad inizio ripresa. Con Fella, bravo a concludere un'azione di contropiede dei suoi. Granata che spariscono dal campo e riappaiono solo nel finale, con un colpo di testa fuori misura di Inzolà. Stessi punti della via Stabia, 19, da due partiti in più delle Vespe. Sale in classifica a quota 11 punti la Sicola Leonzio, che batte il Potenza a domicilio e trova continuità. Al sedicesimo è Mattia Rossetti a firmare l'1-0 con un diagonale preciso. Il pareggio dei Lucani arriva nella ripresa con Franza a svettare di testa su un calcio d'angolo. Potentini che prendono una traversa con Genchi e sfiorano il vantaggio con una punizione chirurgica di Strambelli. Il finale però è della Leonzio, con il colpo di testa vincente di D'Angelo, il novantunesimo, che regala tre punti sofferti ai bianconeri. Torna a vincere anche il Siracusa dando respiro alla classifica. Bastano soli sei secondi a Vasilio per siglare il vantaggio dei laziali. Azzurri che però non si abbattono e cercano il pari. Ci provano Vasquez e Ottvale, ma il colpo vincente è di Turati al settantaseiesimo. Aretusei che premono e che vengono premiati al novantunesimo da un rigore trasformato da Vasquez. Successo che fa salire a quota sei punti gli uomini di Pagano. Pochi spettatori, tante polemiche, molto malumore. A Lentini nonostante la vittoria contro il Potenza, l'atmosfera è tutt'altro che tranquilla. Lo sfogo del presidente della Sicola, Leonzio Giuseppe Leonardi. Non volevo parlare, in settimana volevo ribadire il mio pensiero. Avrei parlato comunque in caso di pareggio, di sconfitta. Sarei venuto, avrei messo la faccia a prescindere da tutto. Perché c'è qualcosa che non va. Sono amareggiato perché è inammissibile che Lentini non spinga questa squadra. Anche l'incitamento, ma proprio l'atteggiamento in che si vede in uno stadio. C'è inammissibile che si fischiano i giocatori, si fischiano i passaggi arretrati. L'atteggiamento è sbagliato. E poi un'altra nota dolente è inammissibile che si fanno appena 80 biglietti. Appena 80 biglietti. È una vergogna. Io credo che questa città non merita questo atteggiamento da questa città. È inammissibile. Ho sentito troppe polemiche quest'estate, troppe cose, gente che fa politica contro la Leonso. La Leonso non ha mai fatto politica. Lasciamola a chi fa politica. Ma nessuno può attaccare la Leonso in qualsiasi cosa che viene fatta. Io invito questi personaggi che criticano questa società per andare a criticare la politica di venire qua allo stadio. Vedere cosa si è fatto, cosa si è realizzato. Gli sfogliatori nuovi, le docce nuove. Questa illuminazione che credo che pochissimi si potevano permettere in così breve tempo. È così. Dall'oggi al domani. 1.700 seggiolini comprati. E box VIP. Box stampa. Cioè andare a colare tutto lo stadio. Ebbene perfettare la tribuna dopo 25 anni una curva. C'è un atteggiamento che non va completamente. Sono amareggiato. I risultati. È vero che stendono a venire. Ci saranno tempi migliori, lo sappiamo. Ma abbiamo creato una squadra importante. Una squadra che è un mix tra giovani e un mix tra giocatori che hanno fatto categorie importanti. Abbiamo un attaccante che è come Rive, che è vero che non sta segnando. Però c'è lo scorro, parla chiaro. Gomez stesso ha fatto la Serie A. Narciso, tanti altri giocatori. Però questo qua a Lentini forse non basta. Forse Leonardo non è più desiderato. Io devo pensare a qualsiasi cosa. Perché così non si può andare più avanti. Io con l'incasso non me ne faccio nulla. E' inutile qua starvi a dire che la società si autofidenza con l'incasso. Però almeno che si riempiono. Qua c'è un'iniziativa con le scuole. Abbiamo fatte con le scuole a calcio, qualsiasi cosa. Però credo che il pubblico qua sta mancando. La curva, a parte quei 15-20 sostenitori, è deserta. La tribuna stessa è un disastro. Perché non c'è quel calore, non c'è quell'atteggiamento. Oggi sono andato in panchina per avere un atteggiamento diretto con i giocatori. Andare a dare sprono perché a volte nei momenti di difficoltà il giocatore si esalta con i mugugni a favore. Non a sfavore. Quando una giocata non risulta e bisogna incitarli. Ma anche nel cambio esce un giocatore e entra un altro. Non c'è questo atteggiamento qui a Lentini. E veramente ne sono deluso e sono amareggiato. Questo è un messaggio che voglio lanciare. Poi se viene ricevuto bene, ognuno si fa la propria strada, gli farò la mia. Però credo che poi ognuno si deve tirare i propri interessi, i propri calcoli. Vi raccontiamo la storia di un collezionista speciale che da dieci anni raccoglie le maglie dei 118 anni di storia del Palermo Calcio. Il servizio di Roberto Chifari. Tutto è nato quasi per caso con una maglia regalata al termine di una partita al Barbera da Giovanni Tedesco. Da quel giorno Gabriele Schillaci ha iniziato a collezionare le maglie del Palermo, un vero e proprio museo vivente con cimeli più unici che rari. Ci sono le maglie dei campioni della storia recente come Pastore, Cavania, Mauri e Miccoli. Ma anche maglie di altri tempi che hanno segnato la storia degli anni 60 e 70 dei Rosa con le maglie da gioco indossate da Arcoleo, Calloni, Chimenti e Montesano. Mi sono prefissato degli obiettivi di raggiungere quindi dal 2007 e andare sempre più indietro negli anni quindi 2006-2005 fin arrivare al 1995 quando andai per la prima volta allo stadio. C'è un pezzo di Palermo raccontato attraverso le 127 maglie che fanno parte di questa incredibile collezione come la Maglia della Rinascita, una raccolta che potrebbe diventare ben presto uno spazio espositivo all'interno del futuro stadio del Palermo. Ho un progetto ben più ampio, non voglio tenerle a casa per sempre, vorrei metterle a servizio di tutti i tifosi del Palermo, di tutti gli appassionati del calcio e mostrarle a tutte e far notare l'evoluzione proprio dei tessuti diversi dalla lana pesante all'acrilico di oggi. Un lavoro incessante per trovare le giuste maglie indossate da chi ha giocato a Palermo tanti anni fa e alimentare una collezione che racconta il passato glorioso del club. Molti sono stati contenti, altri sono rimasti della propria posizione, nel senso che sono ricordi di famiglia e è giusto che principalmente rimangano con loro. Ogni maglia è una piccola conquista perché è il frutto di una sapiente ricerca. Sempre l'idea di poterle esporre le loro maglie nel possibile museo futuro è quello di preservarle nel migliore dei modi. Si svolgerà a Catania dall'1 al 4 novembre la Champions Cup di Beach Handball, di scena i migliori atleti europei di questo sport. Daniele Di Francia. Catania è ancora protagonista nello sport internazionale. Nella città etnea infatti arriva la Champions Cup, la massima manifestazione continentale di Beach Handball, in programma dall'1 al 4 novembre all'ido del litorale Playa, Le Capannine. L'ennesima dimostrazione della bontà della nostra classe dirigente sportiva, sia siciliana che catanese, portare un evento qui in Sicilia a novembre con circa 500 persone, tra atleti, dirigenti e tecnici, significa non solo portare un evento importante a livello internazionale, ma significa anche portare ricchezza nel nostro territorio. 600 persone che ammireranno la nostra città, che porteranno ricchezze e benessere nella nostra città, girandola. Il Beach Handball, ovvero palla a mano sulla sabbia, è uno sport emergente che vede l'Italia protagonista di ottimi risultati e che attende il suo debutto alle Olimpiadi. 32 le squadre partecipanti alla Champions Cup, 17 le nazioni europee, 600 fra atleti e detti ai lavori. C'è il meglio della palla a mano della spiaggia del Beach Handball europeo, ci sono 16 club maschili e 16 femminili provenienti da 17 o 18 nazioni differenti, ci sono giocatori che ormai sono diventati specialisti e professionisti di questa attività, e quindi vedremo il più alto livello di questo sport, che è in questo periodo particolarmente attenzionato a livello internazionale, perché è uno degli sport che dovrebbe entrare nel prossimo programma olimpico a partire da Parigi 20-24. Rispetto al Beach ha una buona tradizione, in un ranking dove al contrario dell'Indor siamo molto avanti rispetto alle nazioni, poi recentemente l'Italia giovanile è stata alle Olimpiadi e a Buenos Aires, dove tra i ragazzi che hanno partecipato a questa grande manifestazione per la prima volta c'era un siciliano doc, figlio d'arte tra l'altro, Bronzo, che negli anni passati ha giocato con l'Albatro Siracusa e quest'anno milita con il Fasano, che è una delle società più importanti nel panorama maschile nazionale. Bene, era questo l'ultimo servizio, vi ringrazio come sempre di aver seguito il nostro Ultima Tg. Grazie a tutti!